Macro categoria imprese, categoria servizi e consulenza. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, aste telematiche e andiamo a leggere subito la motivazione. Per essere una piattaforma dedicata alle vendite giudiziarie telematiche, da ultimo anche con focus sul lusso, in grado di cambiare il sistema puntando su innovazione, sicurezza, trasparenza e accessibilità. Per i record di crescita e ricorso a tecnologia all'avanguardia come la blockchain, che ne fanno un autentico leader. Il premio va a Astebook.it. Ed è un piacere avere qui con me Paolo Fancoli, CEO di Astebook.it, che invito a raggiungermi in studio. Benvenuto, questo è il vostro premio. Grazie mille, grazie. Ti chiedo solo di lasciarlo qui per un istante, poi lo riprendi ovviamente, ma perché ti voglio far accomodare per chiederti subito un commento a caldo su questo riconoscimento. Diciamo che è un riconoscimento che ci rende orgogliosi per quello che abbiamo ottenuto e quello che abbiamo fatto in questi anni. Soprattutto in un momento storico come questo, mi permetto di aggiungere, abbiamo sentito nella motivazione alcune delle parole chiave che nel business, soprattutto che vi riguarda, sono fondamentali, ma ancora di più in un momento come quello che stiamo vivendo, innovazione, sicurezza, trasparenza, accessibilità, blockchain. Assolutamente. Il nostro percorso della blockchain è iniziato nel 2018, nel 2019 abbiamo presentato le prime aste tracciate su blockchain e oggi, grazie anche all'enorme lavoro che abbiamo avuto, questo sta dando degli ottimi risultati e soprattutto portare trasparenza nel settore delle aste giudiziarie. È ovvio che pensare al futuro in questo momento è ancora più complicato, ma visto che abbiamo parlato e stiamo parlando di eccellenze, di leader, la lungimiranza è tutto quando si fa business. Cosa si può dire rispetto a quello che deve ancora arrivare invece? Noi oggi abbiamo due punti su cui stiamo investendo parecchio. Il primo è il potenziamento dei servizi nei confronti dell'auction facilitation, quindi esecuzioni, e il secondo è aste lux, ovvero il mondo del lusso nel mondo giudiziario. Infatti nella motivazione è stato proprio messo in evidenza il focus sul lusso che si va ad aggiungere a tutte le competenze che vi riguardano, quindi punterete tra le altre cose molto su quello. Al mondo del lusso, sempre tracciato tutto su blockchain. Bene, quindi insomma, io volevo farti concludere magari salutando il tuo team, perché poi è un lavoro di sinergia, no? Assolutamente, ma soprattutto il nostro team, perché se non ci fossero stati i ragazzi di Astebook, credo che non ci sarebbe stato né Astebook né Paolo Fancori, quindi un ringraziamento va a loro soprattutto. Benissimo, allora il premio lo possiamo riprendere, io ringrazio ancora Paolo Fancoli, CEO di Astebook.it per questo premio, insomma, di buon auspicio anche per il futuro. Grazie mille. Grazie, grazie e complimenti.